Musica Dove voi andate, madre? Ah, ostia. Il solito posto, il solito... Sì sì. Io mi sono buttato, eh! Anch'io. Perché che ha tempo? Non perda tempo! Madonna io ti amo C'è un po' di gente Si ho visto E' proprio dove andiamo noi di solito Uno mi sta già sparando Stanno sparando a te adesso Si va a uscire Solo che stanno incazzato Arrivo arrivo Non riesco a vedere dove cazzo è Ma fammolca Ma guardalo qui dov'è Ma fammolca Che facciamo Abbiamo visto la zona degli squadri Perché ce l'abbiamo proprio attaccata Sono in due E uno mi ha visto Ok un andato L'amico lo avevo visto andare Nell'acqua Verso l'acqua Non so se Eccola Ce n'è uno qua sopra Massi Ma non è che il reset Sì Vai vai Prende Prende pure che è il modello che c'è qui sono dentro c'è gente dentro ha ritenato uno hai mantenato a me vieni vieni scuro che ho ucciso bravo dai due conti di fanno i fuggati subito ce l'hai le cute si no no cuda di più io ce l'ho scudini ne hai abbiamo scudini qui si tu ce l'hai vabbè c'è il succo succoso te ne do uno ce ne resta uno da qua davanti vieni aspetta 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 che stanno arrivando carica dinamica è molto importante il problema è la zona sta arrivando la zona dobbiamo andare via ma la zona è piccola non possono essere tanto lontane ah l'ho visto l'ho dietro di te una terra una terra eccola qua si allora da siamo troppo forti ha visto a te ed è venuto da te saltando sulla doccia e da dietro l'ho ucciso grande mauro grande voglio che venga messa anche questa si volentieri questa è in coppia dopo due vittorie in terzetti una in coppia da quanto tempo la facevamo in coppia è un casino di tempo è vero doveva? doveva? come